Dopo l'incendio dello scorso anno divambato nei locali di radiologia all'ospedale Raimondi di San Cataldo, sono state ultimate le procedure manutentive straordinarie e la nuova TAC che è stata messa in funzione. Nell'ambito del piano di ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie si prevede inoltre l'installazione del nuovo acceleratore lineare alla radioterapia, un macchinario di ultima generazione utilizzato per il trattamento dei pazienti oncologici, puntando a una maggiore precisione ed efficacia in totale sicurezza.